Stiamo scendendo dall'acqua fredda, là si vede Pedevigliano, Motta Santa Lucia ancora, il Monte Reventino, Confalenti là dietro, Martirano Antico, Martirano Lombardo, San Mango d'Aquino, qua siamo troppo alle stragolere, non so se si vede bene questi sono i cannavali dovrebbero essere, qua i contadini hanno piantato un po di tutto, patate, pomodori, c'è pure un albero di pesco qua, i ciliegi là sotto, e qua dietro c'è una casetta abbandonata, certo che chi abita qua c'è un abbandonato bellissimo, proprio molto saffiato, e tempo fa penso che ci hanno pure abitato. Adesso ce ne torniamo a casa, con la nostra piccola Peugeot, ciao.